Wella ragazzi, ciao a tutti la ricche, ben arrivati ragazzi su Farming Simulator 22 Oggi mappa nuova, ma vecchia persona devo dire, sono qui con Midicaccio Ciao ragazzoni belli Bella raga, allora ragazzi, mappa nuova, sì finalmente me so deciso Anche se è stata una decisione abbastanza difficile perché È sempre difficile scegliere una mappa nuova, non sai mai quale può essere Diciamo quella più attraente, quale può essere la mappa più interessante da portare Allora questa mappa ragazzi si chiama Alma e ci troviamo in Missouri in America Perché ho scelto una mappa americana perché ultimamente ho portato solo mappe piccole ed europee Quindi per cambiare un po' e poi perché comunque tra tante mappe questa al momento ha un ottimo voto Insomma è stata votata molto bene quindi già questo mi rassicura deve essere una mappa parecchio bella E poi diciamo che è una mappa Posso dirlo? Mi ricorda tantissimo, tantissimo con pa' la prima mappa del gioco Helm Creek, quella pure l'americana E poi perché ovviamente essendo una mappa americana raga c'ha i terreni grandi quindi È una mappa questa pensata all'attrezzatura grossa Ok, quindi E quindi insomma Intanto come potete notare abbiamo la mod che ci permette di stare insieme E io e medicaccio in macchina E giustamente diamo un'occhiata alla mappa raga Qui c'è la pizzeria, ciao bella Odio aspetta, no fammi vedere una cosa LOL Non so se hai notato qua dentro Sì sì, vedo gente camminare Salve, intrappolata quella povera gente Fa avanti e indietro, impazzirà Quelli stanno cercando l'uscita Da dove si esce? Aiuto! Ah, là c'è pure la sartoria a fianco alla pizzeria Ah sì Ah, abbiamo passato il meccanico, il panificio, sartoria, pizzeria La vedo di un silo, cos'è quel cos'ho là, boh? Eh non lo so, con un paio Per ora mi godo il panorama americano Ah, però sono belle, insomma Però non ho niente da dire, sono belle Le classiche case americane Che costano una cifra Guarda le mucche Eh, è vero? A sinistra ci stanno le vacchette È fatta bene È fatta bene Macchina americana, giustamente E mi pare che forse le targhe sono pure americane del Missouri Non ne sono sicuro, eh? Che bello, cavolo Guarda qua, si guarda da qualche parte o stiamo uscendo fuori mappa No, 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 mo' giro a sinistra Mi pare che per di qua si va verso la farm, se non ricordo male Bravissimo, si... Mamma che campo qua a destra, enorme Tutto barbabietola da zucchero Eh, c'è da divertirsi lì, eh? Ti voglio adorarlo Oh, aspetta un po', fammi vedere qua Fammi vedere qua Qui pare che ci stanno Delle balle finte Eh, non so Figo Balle di qualche cosa Fosse insilato Sembrano Mi sembrano tipo di insilato Questa non è una nostra farm A me sembra Più paglia bagnata Tipo Comunque, raga, questa è una farm E appunto Eh, può essere Questa è la mappa, raga Ah, come vedete i terreni non sono tantissimi Però sono enormi Sono pochi ma grandi I terreni piccoli sono pochi La mappa alla fine Ha i terreni al centro Diciamo così E Tutta a girare Vabbè, c'è questa zona qui con Vabbè, praticamente la cittadina è questa qua E poi giusto delle strade lunghe, lunghe, lunghe Eh, qui c'è Possiamo dire, compa, che questa forse È la prima mappa su Farming Simulator 22 Che ci facciamo insieme XXL Ah, non saprei Se è la prima che giochiamo insieme di mappa americana L'ultima mappa No, grande così Con i campi grandi così Ah Non lo so Comunque, fammi vedere Forse si può comprare Sì, si può comprare questa farm Certo So, giusto appena 300.000 euro E comprende due terreni A erba Quindi evidentemente questa è la farm Per le vacche Cioè Non mi fa aprire niente, no Eh, non è il nostro Quindi qua, probabilmente, raga, è dove Alleveremo le vacche 300.000 euro Mo' andiamo verso il nostro terreno Cioè La nostra farm Ah, ma questo campo è grandissimo Da barbabietole, compa Ovviamente, raga Ho messo un bel po' di mod Ma sono le stesse mod Che uso Nella Castelnaud Ma in generale Anche nelle altre mappe Le solite mod Autodrive Cruiseplay Quelle lì Che mi tornano sempre utili Le solite A proposito di mod So pure uscite Cioè Le mie mod, raga Finalmente È uscita finalmente La mod Dei fichi d'India Nel mod hub oggi Ed è uscito anche L'aggiornamento Della mod Quella della legna Oggi finalmente Già Un po' guarda il campo a sinistra Che devo guardar? Il campo a sinistra Eh, questo qua A modo lo faccio Niente Porca miseria Cioè, qua Guarda qua Ci vuole mezza giornata Già so che Già so che sarà un incubo Lavorare sti terreni Già so che sarà un incubo Ma con il terreno di questi, raga Diventi miliardario Eh Di ore di tempo A lavorarlo Ok Siamo arrivati in farm Ovviamente Ho iniziato la partita facile Quindi si inizia con quello che Ci dà di base La mappa E di base La mappa Ci dà Un trattore Un carro miscelatore Mi pare di vedere Forse possiamo allevare anche qui Degli animali Dei capanni Per Diciamo Parcheggiare i veicoli E qui c'è il car Ma forse che è finto sto Oh è vero No è vero No è vero È vero Faremo finto da prima Qui c'è un trattore Un John Deere Ah è qui dove possiamo allevare le vacche Quindi quello è Un'altra farm Un'altra farm Hai preso il muro fratelli? Ho preso il recinto Più che altro Qua è un fenile Qui è dove mi sa Forse per le pecore Forse sarà per le pecore Per le pecore? Penso dai Se al liceo stanno le vacche Da qualche parte saranno pecore Ah figo però eh No lo so Qui pare pure Ma che? Ma mi sa che è tutta una roba di animali Vabbè ma sono belli eh Aspettiamo E qua sarà anche esso animali Sì probabile Cavalli Cavalli Bello Qui furia cavallo del west Bello Bello però È fatto veramente Veramente bene Complimenti Non ho appagato la bolletta della luce Non si accende Con la R No neanche Vabbè ma mi sa che non è lui Chissà se c'è chissà dov'è Vabbè ugualo Bello raga Veramente è ben fatto eh Ma chissà quanti cavalli Ci possiamo mettere qua dentro È che a trovare il simbolo Perché l'ho disattivato Allora fammi vedere Aria interattiva Vediamo un po' 12 13 14 15 cavalli al momento Conto No a me mi interessa il simbolo Ah lì è Qua 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 16 Beh buoni Sufficienti Eh ho detto Ho contato Ho contato le scuderie Compa Oh i soldi ce li ho Ma non c'ho da dargli da mangiare Però Eh i cavalli è un'ottima entrata A proposito compa Devi toccare un po' la mod Devi aumentare Devi diminuire Lo so lo so lo so Lo so il tempo di maturazione Eh così almeno con un anno Te li dipendi Potrei Potrei già cominciare a comprarli Che tanto 16 Quanti so 8000 euro Dai Quanto che mi costa 4000 euro Solo per farmi li portare Vabbè dai Ma si vai Ok Li compro Vai Li ho comprati tutti uguali Vai tutti uguali Eh compa Io Io non ti dico nulla Però non aprire Non aprire Il corso degli animali No no Il corso delle produzioni Quante cose puoi fare Ah perché già c'è Ma non c'è niente E' meglio che non lo apri Ma su catene produzioni Non c'è niente Da me No no Vai vai Sui prezzi Ah davvero Vabbè sì No ma Sì no Vabbè ma quelle sono le mod No vabbè E' la mod quella Delle patate Quella che abbiamo usato La volta scorsa I fichi d'India La mia mod Perché Ti mette paura Eh no no Quella è la mod Certo perché tanto qui Se fanno le patate Quindi ho messo la mod Quella potato processing No però è vero Ci sono altre cose Tipo c'è roba Che si fa con Mais Credo Corn Dovebbe essere il mais E Sì Ho letto che in questa mappa C'è la serra Che fa le zucche Popcorn Ketchup Dovrebbe fare Ah pizza In questa mappa Si può anche produrre la pizza Vabbè che io c'ho la mia mod Ma in questa mappa Hanno aggiunto anche La produzione di pizza Porca miseria E a proposito 14.000 euro La pizza E a proposito Raga Questa mappa È anche per console È anche per console Comunque sì In questa mappa Ho letto Che il biogas Produce metano Che poi bisogna venderlo E non produce elettricità Come di base Quindi Bisogna andare a vendere Credo manualmente Quello che il biogas Produce Sì perché Il propano Eh Propano La bombola La bombola La bombola Sì però Non dice nessuna fluttuazione Per questo prodotto Ok Ci stanno parecchie cose Ci sono parecchie cose Da fare Però poi Chiaramente si mischiano Con le altre mod Che ho io Però vabbè La pizza ho letto Che fa parte Di questa mappa Allora Sì come hai detto tu Popcorn Zucche Zucche Sì zucchero E popcorn E quel coso là Che serve dietro là Quello è il silo no? No sto cercando di capire Abbiamo mais Già in mappa Ah ok qua Frumento E quello verde Che cos'è? Alfa alfa Ok Ok Questa è alfa alfa Pronto per la raccolta Sì Allora io però Vado dritto dritto E mi c'è Quanto è grande Ma ma per l'alfalfa Dove sta la trebbia? Eh la sto appigliata Infatti Allora La 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 trebbia Che riceviamo Di base È una Non so come si pronuncia Una Case 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 Mamma compaia in offerte Vistro Cosa c'è? Eh tanta roba Negli sconti Tanta roba Eh tanta roba No no Quella bestia lì Sincenamente Sì Madonna Cominciamo già con le bestie E tecnicamente sarebbe utile E qua in questi campi E qua in questi campi Penso che Penso compaia In questi campi Io non penso Che tu hai il coraggio Di prendere Un trattore Da 60 cavalli Eh ma siccome ancora Io lo so Che poi a breve Mi diranno In che questa serie Senza debiti E io proprio A quello I debiti ci vogliono Perché non ce li ho Qui i soldi Ma il mio terreno qual è Ma non è pronto No non è pronto Sì 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 Pronto per la raccolta Dice Non c'è la lama adatta Il mais Non è pronto Per la raccolta Però Ah no Io l'alfalfa Stavo a vedere E qual è la lama adatta Per l'alfalfa E devo vedere cosa Allora Devo andare negli oggetti Posseduti Allora c'è la lama Normale Sarà la falciatrice Deve essere la falciatrice Perché l'alfalfa E' erba Quindi C'abbiamo i piselli Pure Piselli Sì Ci sono pure i piselli Non mi ricordo Come si chiamano In inglese I piselli Eh vedi Se vai sulla lama Che abbiamo noi Fa vedere il simbolo Del pisello No nel senso Allora Allora Ragazzi i pisellini Ah sì 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 Peas Sì E' vero Ci stanno anche i piselli Suona male Vabbè In pratica Allora Questa mappa A quanto pare In più Diciamo Ha pure Il rie Che non mi ricordo Che caspita è In italiano Rie 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 Riso No 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 Quello è rice Mi pare Una roba simile No Questo è qualcos'altro Ma non mi ricordo Come si chiama Mannaggia Miseria Vai su google E scrivi rie Vedi un po' che cacchio è Vabbè Insomma Stava aggiunge Queste tre cose Piselli Alfalfa E questo rie Che tra poco Capiremo che cos'è Segale Ah segale Ok Vabbè giustamente Ci abbiamo i piselli Ci abbiamo il segale Eh compà Segali Sti Eeeh Io Io Allora Ma dobbiamo capire Come si prende Quell'alfalfa Perché non ci abbiamo La lama Eh non lo so Compa Però almeno Sai come Pogliare sti piselli Piselli con le mani Si prendono con le mani Adagio Perché sennò poi esce in cinta No Eh mamma mia Ma già cominciamo Con i quadrupli sensi Vabbè io parcheggio Perché tanto mi sa Che non c'è niente No aspetta Aspetta però Mi sono dimenticato Ma è pronto per la raccolta Sto terreno qua Non ci ho dato un'occhiata Perché mi Alfalfa si No 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 Quell'altro 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 è buono 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 Abbiamo C'è 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 Frumiento Frumiento Mi pare Era E dov'è il 9 Ficcamo pare Si frumiento Si Ma aspetta Ma te devo portare la lama La lama qua è E come passi Ma se è tutto gigantesco qua A parte che la lama è per terra Non è neanche poggiata Come si deve Madonna che sorta di case Ragà che trattori enormi Ma per forza Ragà per forza Hai visto che sorta di case Che c'ho dentro Non hai visto processore scheda video Ti è piaciuta la battuta Ah se si Vediamo se sale Aspetta Aspetta Vediamo Eh no No E questo no Vaffancore Eh non sale Compaio Eh non sale Sei vecchio Ormai non sale Allora Dov'è Frumiento E mo però Per i cavalli Per i cavalli Forse pigliano alfalfa Io non lo so Boh Eh bo bisogna vedere Se effetti Effettivamente Ma mo No Apprezzano Fieno Avena E sorgo Perfino il sorgo Non lo sapevo sai Avena e sorgo Peccato che io non c'ho Nea avena Ah vabbè il fieno Ok Aspetta che sto cercando Di capire qual è la strada Per andare in sto terreno Siendo in bo C'è ca Boh Un cassone Che gli diamo da mangiare Eh stavo vedendo Stavo vedendo Carrelli Mostra sulla mappa Carrelli Carrelli Ah qua sta Eccolo qua Arrivo arrivo Ah comunque è bella proprio eh Bella 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 è Eh me sono dimenticato Non mi ricordo Se ci stanno i collezionabili Penso di si In una mappa del genere Compaio Penso proprio di si Può essere Tutto è possibile Comunque raga Praticamente questa mappa Prende il posto Della Polesine L'altra E quella senza debiti Si va ancora avanti Che ci ho fatto anche Meno video Però si insomma Dopo 50 video Il cambio Si ci vuole Abbastanza lama Daglie compaio Iniziamo la nuova serie Daglie compaio Cominciamo qua A fa paglia a manetta Ah il cassone da carico Devi comprare O cioè Aspetta E allora Ah no Facciamo l'imballatrice Ce l'abbiamo l'imballatrice Si solo Se noi siamo furbi Compa Ti vendi questa caia E prendi quella veloce Si beh allora Per intanto Una cosa alla volta Per intanto Voglio trebbiare Che poi comunque E se io da dietro Però ti piglio la paglia No? Ti piglio le balle Compa Intanto in questo video Non è che posso fare Terreno Balle Raccolta Animali E domani c'ho E che te stavo a dire Ma tu non è quanto è grande Te stavo a dire Che non solo Questo terreno è grande Ma io c'ho pure La moda Del doppio raccolto Quindi Veramente E a posto stiamo Quindi questo terreno È come se fosse Il doppio A posto stiamo Ragazzi Mo' speriamo che il silo Ha tutto questo Litri Di Eh difatti Mi sa ragazzi Che sta mappa Falla senza debiti È un po' troppo complicato Oh Che magari Sapete cosa Posso benissimo Prendere a noleggio Tipo che ne so Quelle cose Mezzi Macchinari Però gli edifici No? È tipo Metti che non c'è Basta il silo Se ci vuole un silo Più grande No? Cioè È ovvio Perché con tutta sta paia Io volentieri Metto la mia mod Quella che lavora La paia Che se fanno Tanti soldi Perché sinceramente Che ci faccio Con tutta sta paia Gli animali Gli animali Non mi conviene Gli animali Che hanno bisogno Di costi Tanta paia È bella quella Che sei un po' Oh eh sì Vai mi ti caccio Ne fosso Mi è finito Aspetta Per vedere Per vedere la trebbia Aspetta È tu che te la guardi Troppo E non la devi guardare Che poi si vergogna Capito Ah vabbè vai In obliquo È mo qua È mo qua Te fermi Che io faccio il giro Aspetta Allora Vamos No comunque È bella 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 Sì Ma converrebbe Metticci l'operario Dopo un po' Anche se Di la verità Il problema È che va scaricato Spesso Qui ci vuole Un bel camion americano Con un serbatoio Bravo Il tipo Mac Qualcosa di quelli Eh però Il problema Sembra i soldi E porca miseria Qui con 90.000 euro Non favo niente Ancora Non ho fatto Neanche un giro Di campo E tu sei quasi pieno Sì Sto a metà Un po' Mamma E modra Un attimo Continuiamo A girare La mappa Cioè Ci diamo un'occhiata A qualcos'altro Per vedere Cosa c'è in giro Magari troviamo Qualche collezionabile Ragà Che ci aiuta È quello Può essere Pian pienino Secondo me Compa Se te la posso dare Se ti posso dare Sto consiglio Qualche cosa extra La facciamo La sera Nella tua live Tipo Se tu devi registrare Domani un episodio E dobbiamo Ci abbiamo Deve Due campi giganteschi Ce li facciamo In live Sì Quello è chiaro Non è che ti dico Di no I terreni Sono mostruosi Il problema Quello è Sì Che questi terreni Sono giganteschi Ma difatti Non mi viene Neanche voglia Di comprarne altri Cioè Già con questi Ce faccio pure Troppo Sono giganteschi È come È come avere È come avere Dieci terreni Nelle altre map Qua Vai Non te mordere Qui è come avere Dieci terreni Negli altri Cioè Capito No Cioè Sono mostruosi Io metterei Nel titolo Mappa XXL Piselli Segale Certo Aspetta Compa Aspetta Che non ce la fa Aspe Eh sì Ma tanto Non è una trincia Ce l'ha il serbatoio Eh Eh caspita C'è un bel serbatoio Non è che Non è che Mi devo fare Tutti questi problemi Il problema È il motore Di sto trattore Che mi dirà Sai che vi dico Che già Me lo stai a fondere Avanti Ma vabbè Mi sono fatto Un giro di campo Ma andiamo a vedere Se c'è qualcos'altro Devo vedere Proprio Questa alfa Alfa O magari Secondo me St'alfalfa Si prende Con una falciatrice Senti un po' Sei pieno? No Ma lo sei quasi? 92 Ok Allora Aspetta un attimo Voglio fare una prova Voglio vedere Se questa lama Raccoglie alfalfa Già che me ci trovo Vediamo Tanto era pronta No No Non è questa Almeno mi sono tolto Il dubbio Secondo me Essendo che Quella è un'erba Compa Secondo me Quella là Si trasforma Tutta in Pula Ma non lo so Sinceramente Poi magari Se diventava pure Fieno Visto che abbiamo I cavalli Anche Ok Buono dai Anzi vai a scaricare Che tanto Sarai pieno Con un giro di campo Qua Si E per ora In giro di campo Abbiamo fatto un pieno Allora Qui abbiamo Ecco Altra attrezzatura Qui abbiamo Un John Deere Una piantatrice Un coltivatore Ranghinatore Voltafieno Imballatrice Falcetrice La seminatrice Quella normale Ecco Guarda quella falcetrice Che abbiamo Compa Vuoi vedere Che raccoglie Alfalfa Ne abbiamo due Una si attacca davanti Una si attacca dietro Ed è possibile Vediamo Non lo dice Sai Non c'è il simbolo Quindi non Non te lo dice Però Se mo io ci salgo E vado a provare Me tolgo Ma sicuramente Deve essere così Eeeh Yes Edo scarico E boh Ci sarà il silo Per forza No E speriamo Che è anche Bello capiente A proposito No Non mi dire Che si alza Sto coso E si scarica Da sopra Io Compa Non lo so Cosa si alza E cosa non si alza Ma nel silo Non ci abbiamo Niente Peccato Di solito Quando si inizia Difficoltà facile Te davano qualcosa Per cominciare Compa Alzami Alzami un attimo Sto tubo in alto No Non è Vuoi vedere Vuoi vedere Che si scarica Così No No Non credo No Qua dietro Oddio Eh Boh Perché ci stanno Stare Sti Sti Mezzi Che poi I silos Sono separati Ma seriamente Mi sto a dire Che uno Deve scaricarli Sopra E come faccio Ma può essere mai Che bisogna Scaricare così Beh sarebbe Probabilmente Realistico Però Mamma mia È un dito In quel posticino Aspetta Aspetta Ma quello Me lo devi Dispiegare O no È un attimo Che devo Togliere Una cosa Ok Però se funziona Così Ragazzi Tanta roba È la prima Volta Sì Sarebbe La prima Volta Aspetta Perché Mi devo Posizionare Più al centro Proviamo Di sicuro Te lo fa scaricare Però non è detto Che poi Entra qui dentro Ok Me lo sta facendo Scaricare E qui Scarica pure No Vabbè Funziona Funziona No Vabbè Ragazzi G Vedi che Queste sono cose Che io non ho mai visto È vero E quindi Si prende Dall'altra parte Con quell'altro No Vabbè Già scaricato Tutto C'è E quindi Tu lo riprendi Da qua No Lo si ripiglia Con quello piccolo Poi Ora Cerco di capire Dove è sto terreno Con l'alfa No Sarà perché non è sotto Cacchio Io non so manco Come funziona No ma Che poi Aspetta Sono tre silos Separati Io ho scaricato Nell'ultimo Tu te trovi nel mezzo Capace che devi pure Selezionare quello giusto No Vabbè Quello più piccolo L'abbiamo messo noi Vabbè Buono Io penso Allora è bello Complicato Vabbè Ma male che va Se non mi trovo Tanto bene Metto un silos Normale Via Un silos Di quelli tuoi Da Milioni di No tu Massimo Quanto hai fatto Un pa' Eh Anche Quattro Milioni Forse Non mi ricordo Ah ok Vediamo se Questo è per l'alfa Alfa E pare di sì Bah E la trasforma in erba Che penso di sì Però ci metto l'operario Stavolta Perché Tipo di prodotto Alfa 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 Mietuto E ora E quindi Devi fare le balle Di alfa Alfa Eh sì Praticamente No Vabbè Poi c'è da ranchinare Prima Ok Questa l'abbiamo fatta Mi faccio vedere ragazzi Il biogas Non mi ci fa andare Sì Biogas Visita Qui c'è il biogas Ovviamente da comprare Non è nostro E Canto stai Ah Al biogas Così Vabbè È classico Non è che c'è Chissà che Vabbè Poi 300.000 euro Ecco Poi passa il treno Qui c'è la segheria Come produzioni Qui c'è Produzione ketchup Popcorn Dove ce l'hai? Mercante bestiave Sto guardando Pizzeria Falle pizze Sartoria Forno Caseificio E Mulino per grano Basta Mi pare che non ci sono Altre Produzioni Quindi ketchup Ottimo Quindi pomodori a gogo Quindi c'è Quindi c'è anche il ketchup C'è Stavo ketchup Già Va bene Io direi che Concludiamo Che il tempo Vola Non è che possiamo Fattuto Anzi Ci vediamo A malapena Abbiamo fatto Un giro di campo Madonna Va bene Ragazzi Allora Spero che vi possa Piacere Questa nuova mappa Spero di sì E forse Come dice Miticaccio Magari mi converrebbe Giusto fare qualche Lavoretto Tipo in live Però in live Le faccio solo su Twitch E trovate il link In descrizione Sì perché Se no effettivamente Non lo so neanch'io Come fare a lavorare Terreni così grandi A video Non ci arrivo Fuori video Beh c'è anche la vita privata E non ci arrivo Quindi è un po' complicato Bravo Ecco perché l'ho detto Sì Farsi questi terreni giganti È un bel problema Fare questi terreni giganti È un bel problema Quindi magari Se avete qualche suggerimento Esatto Poi magari Ragazzi Se qualcosa Il lunedì Visto che Nick Non fa niente Vi mette Quell'episodio extra Delle live Che abbiamo fatto Di Twitch Magari Sì L'ho fatto anche ieri Va bene Che vi devo dire Ragà Per ora Noi concludiamo Speriamo vi sia piaciuto Il video Vi ricordo che in descrizione Ci trovate il canale Di Midicaccio In descrizione Ci trovate Un link Per comprare Questi e tanti altri giochi Scontati La mappa E tutto il resto Insomma Ragà Alla prossima ragazzi Ciao 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 ragazzi Ciao 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 Ciao